Se senti l'ispirazione per una partita a tennis, oggi per te c'è Super Tennis Club. Puoi scegliere il campo più vicino e adatto a te e a quel punto non ti resta che scegliere qualcuno del tuo stesso livello, qualcuno con cui puoi giocare veramente alla pari. Vai su SuperTennisClub.it e iscriviti subito, ci sono già migliaia di giocatori che ti aspettano.